Non si tratta di purezza dell'eroina, ma si tratta di un'eroina che viene trattata con degli ingredienti chimici che risultano essere poi letali. È chiaro che il tossicodipendente nel momento in cui si inietta la dose non ha consapevolezza, non può averla, di cosa si sta iniettando. Difficile per un tossicodipendente in preda a una crisi di astinenza soffermarsi a pensare che quella che sta per comprare potrebbe essere la dose letale. Come è accaduto negli ultimi mesi con la nuova eroina, di effetto 30 volte superiore a quella tradizionale che ha portato alla morte di 8 persone e forse di una nona. La lotta allo spaccio in terraferma con 100 nuovi agenti che presideranno il territorio è ora più serrata vista l'arroganza di questi spacciatori. Il fine è quello di garantirsi la dipendenza da quel prodotto e quindi garantirsi ulteriori vendite. Quindi ce l'ho io, vieni da me e tutto va bene, io guadagno e tu puoi continuare a drogarti. Una teoria assolutamente molto terrena ma purtroppo molto concreta.